tre buoni motivi per venire a trovarci in farmacia qui a Tradate primo motivo siamo in grado di procurarvi tutto quello che vi serve nel giro di due ore al massimo in mezza giornata e comunque assortimenti è sempre molto vasto secondo buon motivo siamo specializzati in dermatologia in prodotti per l'infanzia e i prodotti veterinari qua potete trovare tutto per i vostri piccoli amici di casa come terzo motivo da noi puoi trovare le consulenze che più ti interessano il dietologo nutrizionista l'analisi del cappello l'analisi della pelle le analisi rapide del sangue in più l'olter pressorio da ultimo siamo soci del uni club per accumulare punti e vincere premi meravigliosi e poi se mi permettete siamo i più rapidi i più bravi e i più simpatici